Buone notizie per la dodicenne di Calcinelli ricoverata dall'altro ieri al Salesi di Ancona per una sospetta meningite causata dal batterio meningococco. La ragazzina che rimane in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva sta reagendo alle cure a base di antibiotici ed è sempre rimasta vigile. L'alunna della scuola media Leopardi era assente da una settimana. Inizialmente i genitori pensavano si trattasse di un'influenza, smentita poi da una prima diagnosi eseguita all'ospedale Santa Croce di Fano e dagli accertamenti effettuati in quello pediatrico di Ancona, dove la ragazzina è stata trasferita. In collaborazione con l'istituto comprensivo e l'amministrazione comunale di Saltara, sabato è scattato l'allarme che ha mobilitato il servizio di igiene e sanità pubblica dell'area Vasta 1 dell'Asur, il cui responsabile Massimo Agostini sta continuando a monitorare la situazione. Ma dalle risposte arrivate oggi pare che gli esami siano tutti negativi e che quindi potrebbe non trattarsi di meningite, anche se c'è il rischio che le analisi siano state alterate dagli antibiotici. Sono scattati infatti i protocolli previsti per la profilassi che hanno interessato anche una cinquantina di soggetti, cioè persone che potrebbero essere venute a contatto con lei nell'ultimo periodo. Noi abbiamo fatto come di prassi, come è previsto da quelle che sono le procedure in questi casi, abbiamo coinvolto i compagni di classe del soggetto che ha sospetto di meningite e anche una squadra di calcio, perché questo giocava anche in una squadra di calcio e anche avendo fatto una partita a Iesi, anche gli avversari di questa squadra di calcio attraverso i colleghi di Iesi che hanno collaborato a questa attività. Da un punto di vista della prevenzione abbiamo coperto tutti quelli che sono considerati soggetti ad alto rischio nel caso di contatti con la meningite. Che cosa è stato somministrato? In questi casi si somministra un antibiotico, in genere nell'adulto basta anche una sola somministrazione per coprire, da un punto di vista della prevenzione, nei bambini si fa una somministrazione ogni 12 ore per due giorni. Quindi è stato distribuito a tutte le famiglie l'antibiotico sia per i bambini e agli adulti, soprattutto gli insegnanti, quelli che erano a diretto contatto con il bambino, l'antibiotico per un'unica somministrazione. Il responsabile sanitario che ricorda l'importanza della vaccinazione ha confermato inoltre che non c'è nessuna relazione con il caso verificato sia ad Orciano il 25 gennaio scorso e che ha portato alla morte del piccolo Francesco di appena 10 anni. Sì, perché l'incubazione di questa malattia è di 10 giorni, qui è passato quasi un mese, poi sono due realtà completamente diverse e non abbiamo individuato nessun elemento di contatto. Vicenanza è stata dimostrata dall'intero paese, dai familiari, dall'istituto comprensivo Leopardi, dalla società di calcetto in cui gioca e dalle atleti che condividono quella piccola i momenti sportivi. La preoccupazione ancora resta, ma l'allarme si sta lentamente attenuando per lasciare sempre più spazio alla speranza che questa brutta avventura si possa risolvere il prima possibile e nel migliore dei modi.